Consulenza viso, in questo video ti spiego che cos'è e come funziona e darò risposta a queste domande. Queste sono le domande che mi vengono fatte più di frequente. Che cos'è la consulenza viso, come funziona e com'è strutturata e in che modo ci metteremo in contatto. Poi, ma Tatiana, riesci a valutare la mia pelle online e perché una candidatura? Inoltre, dopo quanto otterrò dei risultati. La consulenza viso è un'analisi attenta e scrupolosa della pelle, del suo escursus e di quello che è stato fatto o non fatto in passato o di cosa si sta facendo o utilizzando attualmente. Sia come azioni ma anche come skin care. Individuerò inestetismi o squilibri per andarli a risolvere e riallineare con obiettivo una pelle bella, sana e in salute. Tatiana, ma riesci a valutare la mia pelle online? Assolutamente sì e non sono io a dirlo che sarei di parte, ma le tante ragazze e donne che ho seguito e che sto seguendo attualmente aiutandole con la loro pelle per dei risultati eccezionali. Sono un'esperta della pelle del viso da oltre 20 anni e questo mi porta ad avere un'esperienza inequiparabile. Quel determinato caso o inestetismo l'avrò affrontato altre centinaia di volte, proprio perché nella mia carriera ho seguito oltre 15.000 donne. Per questo ho tutte le competenze per poterlo fare online con dei risultati certi, ma addirittura bendata e a testa in giù. E non ti sto dicendo questo per vantarmi, ma solo per farti capire quanto ad oggi tutto questo per me risulti facile come respirare, proprio perché gli ho dedicato la mia vita. Seguo e ho sempre seguito donne e ragazze da tutta Italia e da tutto il mondo, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, ma anche America ed Emirati Arabi. Se mi segui sui social, dove spesso ne condivido le testimonianze, saprai con risultati eccellenti. Alcune di loro mi raggiungono in aereo ed altre le seguo con un percorso a distanza, proprio tramite la consulenza online. Questo perché è una metodica che porto ormai avanti da molti anni e che ho potuto affinare nel tempo. Tramite una serie di domande e con una mia metodica appunto affinata nel tempo, individuerò esattamente qual è lo squilibrio della pelle o il gesto che non si sta facendo nel modo adeguato o il prodotto che non è affine al tuo tipo di pelle. Questo per poi strutturare un percorso idoneo, ma soprattutto una skin care routine perfetta ed adeguata alle esigenze della tua pelle per ottenere tutti gli obiettivi prefissati in consulenza. Una volta che ti sarà stato assegnato un appuntamento privato con me, ci incontreremo in video, o su Skype o su Zoom. Non ti preoccupare perché anche se tu non sappia che cose siano e come funzionano, la mia assistente ti guiderà passo passo. Chi rientra nella consulenza è una persona che seguo e seguirò con il mio team fino al raggiungimento dell'obiettivo. Alcune di queste persone le seleziono anche per delle sedute viso di persona. Questo lo stabilirò in fase di consulenza in base alla pelle, al tipo di obiettivo che si deve raggiungere. Quindi si possono aprire due tipi di percorso. Il primo a distanza e il secondo anche con delle sedute viso di persona. Siamo esseri unici e per questo non c'è una consulenza uguale e che vada bene per tutti, ma viene sempre strutturata in base alla donna che ho davanti, al tipo di pelle, agli obiettivi che vogliamo raggiungere. Perciò si tratta come nel percorso, anche nella consulenza di un qualcosa di assolutamente su misura. Come funziona la candidatura? La puoi inviare tramite il link che trovi qui sotto o tramite il mio sito www.tatianacutelli.com cliccando appunto su consulenza. Dovrai descrivere la tua pelle e le sensazioni che hai e gli obiettivi che vorresti raggiungere. E appunto cliccare su invio. Da lì la tua candidatura verrà valutata se rispecchia tutte le caratteristiche e successivamente riceverai una risposta dal mio team se appunto avrà un esito positivo. Perché una candidatura? Perché sono una persona molto impegnata e sono costretta a selezionare chi seguire. E potendo scegliere chi seguire, scelgo solo donne che veramente vogliono migliorare la propria pelle e che come me vogliono dei risultati concreti. Inoltre scelgo donne positive perché io sono una persona solare, allegra e positiva. E voglio circondarmi nella mia vita di persone che lo siano altrettanto. Sono anche una persona molto determinata e per questo seleziono solo donne che veramente vogliono migliorare la propria pelle e che siano determinate nell'ottenere gli obiettivi che si sono prefissate. Dopo quanto otterrò dei risultati? La risposta è pressoché scontata. Cioè non si sa perché ovviamente ogni pelle è diversa, ogni donna è diversa, ogni escursus, ogni luogo dove si vive e le azioni appunto fatte e non fatte. Questo determinano, come dicevo prima, un caso a sé. Quindi ogni donna va valutata in un determinato modo. Ma due cose arrivano immediatamente. Il miglioramento della pelle che ovviamente ringrazia dell'azione giusta e da subito dei primi risultati. Ma si ha anche una presa di coscienza appunto delle cose fatte o non fatte in passato, di come si è arrivate a quel tipo di pelle. Perciò dal giorno dopo, immediato della consulenza, si ha subito una presa di coscienza sulle azioni da dover fare per migliorare la propria pelle e quelle invece da evitare che hanno portato appunto a dei risultati non idonei. Nel salutarti ti ricordo che la pelle che hai ora è frutto di azioni fatte e non fatte. Perciò non perdere nemmeno un secondo in via alla tua candidatura perché ti aiuterò ad ottenere la pelle che hai sempre sognato.